direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto prima di procedere vi ricordiamo che l'estrazione di oggi sostiene il fondo dedicato alle emergenze nazionali ed ora andiamo a scoprire quale cifra ha raggiunto il jackpot oggi venerdì 19 aprile 91 milioni 910 mila 929 euro le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ralvi all'estrazione del concorso numero 62 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire i sei numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero 9 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 18 il terzo numero 8 il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 87 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 65 adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 70 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sestina vincente il sesto numero estratto è il numero 75 dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo dall'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a 5 numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 53 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione ed il numero jolly 9 18 87 65 70 75 numero jolly 53 ed ora passiamo al numero superstar 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 è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite super nell'otto fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti? il numero superstar di questa sera è il numero 81 ricontrolliamo insieme tutti i numeri estratti del concorso numero 62 con la sestina vincente in ordine crescente 9 18 65 70 75 87 numero jolly 53 numero superstar 81 l'estrazione di oggi venerdì 19 aprile termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 91 milioni 900 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 62 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del super enalotto assegna 288 mila 575 vincite vi ricordo che il jackpot in valio è di oltre 91 milioni 900 mila euro sarà stato centrato il 6? questa sera il 6 di super enalotto non è stato realizzato e jackpot cresce ancora per arrivare a 92 milioni 800 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6, nessun 5 più 1 l'unico 5 si aggiudica 129 mila 50 euro i 4 sono 330 e vincono 401 euro ciascuno i 3 sono 16.157 e vincono 24 euro ciascuno i 2 sono 249.841 e vincono 5 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 167.890 vincite immediate winbox scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella l'unico 4 stella vince 40.145 euro i 3 stella sono 59 e vincono 2.455 euro ciascuno 100 euro vanno invece ai 1.134 2 stella 10 euro ai 6.562 1 stella e 5 euro ai 14.490 0 stella inoltre 75 vincite da 50 euro ciascuna e 11.316 vincite da 3 euro ciascuna sono assegnate le combinazioni non vincenti vi ricordiamo che è possibile verificare l'esito delle proprie giocate in modo facile e veloce anche con l'app Super Enalotto l'app è disponibile per tutti i dispositivi per maggiori informazioni consultate il sito superenalotto.it vi ringrazio per essere stati con noi Super Enalotto vi da appuntamento a domani sabato 20 aprile giocheremo per un jackpot di 92.800.000 euro arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti